76 mezzi regionali con moduli antincendio, 60 veicoli delle organizzazioni di volontariato, alcuni mezzi speciali, un elicottero regionale dedicato e 1.200 operatori formati e dotati di dispositivi di protezione individuale. Sono questi i numeri della campagna antincendi boschivi varata dalla Regione Avruzzo per il 2021 e illustrata da Mario Casinghini, direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile. Gli incendi si controllano con la rapidità di intervento, dobbiamo essere noi a chiamare il 115 o il nostro numero verde perché non dobbiamo mai lasciare intendere che qualcuno lo faccia al posto nostro. Noi abbiamo attivato la nostra sala operativa unificata che è presidiata dal nostro personale regionale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri forestali e dalle organizzazioni di volontariato, a cui poi ovviamente si aggiunge lo straordinario apporto degli enti locali che sono ovviamente i primi a dover affrontare l'emergenza e i nostri parchi nazionali, anche l'Abruzzo ha tre parchi nazionali e un parco regionale per cui anche nelle aree protette l'intervento è maggiormente importante nella sua rapidità. Oltre a un potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è proprio dedicato alla campagna antincendio, abbiamo uno straordinario apporto delle organizzazioni di volontariato che peraltro in questo momento ci danno anche tutto il supporto per i centri vaccinali. Non possiamo non sottolineare l'importanza della professionalità, quindi del fattore umano, soprattutto chi si rende parte di gente, quindi cittadini che diventano parte attiva della protezione civile. Chi cagiona un incendio boschivo, così come dice il codice penale, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Oltre agli incendi dolosi ci sono anche incendi colposi, cioè quelli che si provocano non con l'intenzione ma con l'incuria. Aggiungerei anche di fare molta attenzione ai fuochi pirotecnici durante il periodo estivo, stiamo vivendo un periodo di grande secco, c'è poca acqua per cui dobbiamo stare veramente attenti perché qualsiasi scintilla può provocare un incendio di ettari e ettari di bosco. L'anno scorso sono bruciati 1.300 ettari del nostro bosco abruzzese, quasi 900 solo qui intorno all'Aquila per gli incendi che tutti noi ricordiamo. Dobbiamo abbattere questi numeri perché il nostro patrimonio verde è anche la nostra economia.